E' stato Licio di Biase a presentare il simbolo di solidari e popolari centristi per l'Europa, una delle liste che sostengono il candidato presidente alle regioni Abruzzo Giovanni Legnini. Una lista è stata detta composta soprattutto da esponenti del mondo del sociale e del volontariato nello spirito del progetto di Legnini aperto a tutti i cittadini per scrivere insieme l'Abruzzo. All'iniziativa di oggi al comitato elettorale di Via Piave a Pescara, volti noti e non che si sono ritrovati nei valori e nelle finalità della lista in questione e ovviamente nella persona di Legnini candidato presidente. Sì, ed è proprio questa lista che dà sostanza a quel progetto a cui lei si riferiva, molto più ampio, articolato, ma la lista dei cattolici popolari, di democrazia solidale, delle donne e degli uomini che vi aderiscono, del mondo del volontariato, costituisce un punto essenziale del progetto e un ponte verso un mondo, quello dei valori della dottrina sociale della Chiesa, quello dei valori del volontariato, dei valori della solidarietà ai quali il nostro programma si ispira. Insomma, il coinvolgimento dei cittadini che fanno poi politica e che fanno l'Abruzzo. La novità è proprio questa. Io nel motivare la mia candidatura ho chiesto alla società civile un passo avanti e ho chiesto ai partiti di sostenere le donne e gli uomini che avessero raccolto questo appello. E ciò si sta verificando. Le liste nuove rappresentative di mondi della società e dell'economia che guidano la coalizione, i partiti che vi partecipano, la sostengono e insieme danno vita a questo nuovo progetto politico. Ci saranno, si disvelerà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, l'interezza della composizione delle liste. ci saranno moltissime persone che non si sono mai candidate a nulla e che per la prima volta si cimentano con la cura dell'interesse collettivo.